Grazie, appena finita Inter-Fiorentina 1-1, pareggio che sa di condanna, pareggio che sa di condanna, perché al momento andiamo a meno 3 dal Milan che deve giocare, che se vince va a più 6. Ovviamente abbiamo sempre una partita in meno, ma questo vuol dire che se la vinci col Bologna, perché per ora le statistiche, anzi la media è 10 partite, sono 5 pareggi, 3 vittorie e 2 sconfitte. Perché ovviamente, come ho già detto, non è una media scudetto, 5 pareggi, 3 vittorie e 2 sconfitte. Non può essere media scudetto, anche perché arrivando a pari punti per gli scontri diretti, per quel famoso derby dove c'è stato lo sliding doors a favore degli zozzoneri, perché quel derby ha cambiato la stagione. Ed è evidente anche adesso, perché l'Inter si è svegliata, ha uscito l'orgoglio dopo che è andata in svantaggio. Oggi, se non abbiamo perso, è stato merito di Andanovic che oggi ha fatto una gran partita, è merito di Dufris, di Dumpi Dumpi, che l'ha pareggiata su un grande cross di Perisic. Anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, anche oggi, li abbiamo sprecate maledettamente fino all'ultima. Con Ciala che cerca Dumpi, Dumpfris non capisce di essere in gioco. Oppure con Dzeko che mette pressione su Terraciano che sbaglia, ma Dzeko scivola e non è il tempo di rialzarsi. Il tiro di Sanchez deviato, quelle sono venute tutte dopo, perché nel primo tempo abbiamo fatto veramente poco. Anche oggi mancava Brozovic, oggi però non è stata la partita come quella col Torino o quella col Sassuolo. Molto meglio. Meglio Ciala in quella posizione che Barella o Vesino. Ed era quello che ci chiedevamo un po' tutti già da tempo, visto che nell'Inter quello che ha i piedi buoni in quel centrocampo, dopo Brozo, è proprio Ciala. Vesino, vabbè, lasciamo stare, gli errori si fanno. Però anche con Ciala, che ha più qualità, i tempi erano molto lenti. Adesso rischiamo, dipende cosa fa la Juve, adesso rischiamo che dopo la sosta con la Juve, stanno facendo vedere la classifica, 56, se la Juve vince perché gioca con la Salernita la va a 59. Cioè noi a Torino al momento ci giochiamo il quarto posto. Ragazzi, siamo riusciti a buttare una stagione nel cesso. Abbiamo tirato quasi la catenella, siamo a galla. Siamo a galla per la matematica, ma abbiamo buttato nel girone di ritorno un campionato nel cesso. E tutto è successo in quel derby, dove tu hai sette punti di vantaggio con una partita in meno. Un derby che tu stai vincendo 1-0. Un derby che non solo ti fai pareggiare, ma ti fai rimontare in cinque minuti di follia. E lì è cambiata la stagione dell'Inter, c'è poco da fare. Perché lo vedi, adesso che le partite sono sempre più difficili, hanno sempre più peso, che l'Inter inizia in maniera più lenta, più meccanica, per chi ha paura di sbagliare. Però se hai paura e poi il gol lo prendi uguale e devi andare a riprendere il risultato come è stato sia col Torino, che ci sei riuscito al 93esimo, sia come oggi, non hai molta strada da fare. Non hai molta strada da fare. Mi è piaciuto Dunfriss, mi è piaciuto Perisic. Perisic, Barella non mi ha fatto impazzire. Barella per ora è in un periodo strano. Barella per ora è poco lucido. Mi dispiace pure che adesso deve andare a giocare con la nazionale. Ma ragazzi, oggi abbiamo dato quasi la sentenza definitiva alla fine alla corsa Scudetto. Abbiamo quasi dato la botta finale, anzi abbiamo quasi staccato la spina alla nostra corsa Scudetto. Ringraziamo Andanovic e Dunfrissi che oggi ci hanno salvato dalla sconfitta. Intanto un punto l'abbiamo fatto, il Milan deve giocare col Cagliari. È vero. Mettiamo le mani avanti. Se dovessero vincere, per ora sarebbero a più 6. Se dovessero vincere, per ora sarebbero a più 6. Se la Juve vince, viene a meno 1. Ragazzi, la Juventus la davano tutti per spacciata. Io l'ho sempre detto, ho più paura della Juve delle altre. Ma stiamo scherzando. Stiamo facendo Arakiri con le nostre... Cioè, ci stiamo uccidendo il campionato da soli. Da soli. Quindi, veramente, io sono veramente deluso e dispiaciuto. Capisco le partite, tantissime partite. Capisco tutto quello che volete. Però non puoi affrontare... Non puoi cominciare le partite con questa paura. Con questi approcci un po' spaventati che ti fanno giocare col freno a mano tirato. Non si può giocare in questa maniera. Per poi dover sempre rincorrere gli avversari. Ragazzi, purtroppo su Inter Fiorentina non ho altro da dire. Adesso ci sarà la pausa. Accendiamo con questa bellissima media punti. Cinque pareggi, tre vittorie e due sconfitte. Se non fosse per il grandissimo girone di andata, dove siamo stati campioni d'inverno. Ragazzi, stiamo facendo quello che gli zozzoneri hanno fatto l'anno scorso. Stiamo facendo il campionato che l'anno scorso hanno fatto gli zozzoneri. Lo stesso campionato, campioni d'inverno, sette punti di vantaggio. Ce li siamo fatti mangiare tutti e adesso rischiamo di andare a meno sei dalla vetta. A meno sei. Io sono sempre fiducioso perché io difendo sempre i miei colori. Io fino a quando la matematica non parla, non do niente di perso. Mancano nove partite, otto più quella da recuperare. C'è la Juventus, per carità di Dio. Non vuol dire niente perché si può vincere a Torino. L'abbiamo fatto in passato. Siamo l'Inter. Ci dobbiamo provare e dobbiamo provare a portare a casa una vittoria che sarà fondamentale. Ragazzi, stavolta è vero? Non ho altro da dire. Purtroppo su Inter Fiorentina finita 1-1. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro. Nel bene e nel male comunque i colori si difendono sempre. Sempre forza Inter. Amala.